Sarà un piacere restare in città questa estate, lo assicura Teramo Natura Indomita, un cartellone di eventi pensato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e gli enti più importanti del capoluogo, tra i quali la Fondazione Tercas, la Camera di Commercio e la Primo Riccitelli. Oltre 200 gli spettacoli da luglio a settembre tra musica, teatro, libri e incontri tematici, musei e siti archeologici sempre aperti e installazioni luminose in ogni angolo del centro storico senza dimenticare il parco fluviale, un'offerta culturale ad ampio raggio. Questa è stata l'arma vincente per costruire un calendario così lungo, così ampio che dà risposta a tutte le sensibilità culturali della città in un contesto nel quale per la prima volta riusciremo ad avere l'apertura di tutti quanti i siti archeologici e museali della città di Teramo. Avremo un percorso che abbraccia la città, che parte dalla villa comunale e che termina a Madonna delle Grazie, abbracciando ed includendo tutto il centro con un particolare occhio di riguardo a Piazza Sant'Anna e che scende poi al parco fluviale dove già l'anno scorso abbiamo avuto un evidente successo. Quest'anno siamo pronti a ripeterci e anzi ad ampliare quella che è l'offerta, certi che Teramo torni ad avere un ruolo di attrattore nella nostra provincia e non solo, anche sul territorio regionale. Sarà la musica però a fare la parte da Leone in questa estate cittadina a Teramo. Simona Molinari, Alice, Antonella Ruggero, lo Stato Sociale, concerti dal vivo di assoluto livello nazionale, richiameranno turisti e pubblico da tutta la regione. L'anno scorso era un esperimento, provevamo a dare una vocazione turistica alla città di Teramo, quest'anno ci siamo riusciti, possiamo dirlo con certezza. Se qualche anno fa ad agosto si facevano le valigie e si lasciava alla città lasciando Teramo semi deserta, oggi riempiamo la città di contenuti, di colori, di una marea di eventi fino a settembre. Eventi nazionali, eventi internazionali, si chiuderà con la settimana dell'alimentazione. Quindi un grandissimo cartellone che chiedo chiaramente a tutti gli utenti di seguire sia su tutto il cartaceo che verrà stampato ma soprattutto sui social perché sarà un programma che crescerà ancora.